un viso 3.841 metri Grazie a tutti Grazie a tutti Un po' di foto bellissime al Monviso all'alba dalla torre civica del Belvedere di Mondovì sono arrivato qua circa un'ora fa adesso c'è il sole ho fatto delle belle foto al Monviso da tutto l'arco alpino occidentale piemontese adesso faremo un bel giro a Mondovì in fase autunnale Mondovì è piena di alberi, piena di natura una cittadina bellissima del Piemonte immersa nella natura tanti colori verde, marroni, giallo, rosso tanto azzurro, poche nuvole tante tante foglie mezzogiorno passa una lidiana attraverso la torre lo faccio o non lo faccio lo faccio o non lo faccio Grazie a tutti. bellissimo. Questa è la rotonda con i bambini che danzano, la faccio vedere dopo e nella parte bassa ti mando via. Potremmo stare qua almeno un paio d'ore, guarda questo. Bellissimo. Caffè, caffè. Urge l'assunzione di caffeina. Lì c'è la funicolare, magari ci facciamo un giretto. Piazza Maggiore di Pondo di Alto. Che voce che hai! Mozzica. Piano, piano, piano. Dai, calmo dai. Che bello. Che vocione. Prendiamo la funicolare di Pondo di Alto e scendiamo in basso. Stazione di Monte. La piazza Maggiore di Pondo di Alto. Sto per partire. Conferma quantità. Uno. Nooo. Ciao, prendo la prossima. Sì, così faccio una ripresa, grazie. Va forte. Sei mai venuta qua? Beh, una volta l'ho presa. No, va bene. L'ho presa quando hanno inaugurato. Però intanto si rompe. Speriamo che la rompe adesso. All'estate fanno l'augurazione. E' la polizia. La polizia. Qua. Io credo, ieri sera che dovevo posare la notte. Invece da un aperitivo. Un'ora. Pugolino. Fanno 7.30. Fanno 7.30. Una sala un'altra scende. Oggi fa bello oggi domani, oggi domani fa bello, un po' d'acqua ci vuole, è molto ripido, ho colto tanto peso ancora a ottobre, non va a restare sulla montagna russa, qua è proprio discesa da montagna russa, però con la GoPro non è in realtà, perché la GoPro tende a raccontare le buzze, poi comincia a frenare, piaciuto il giro. Sulla funicolare antica. Grazie a tutti. 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 Il fiume Ellero di Mondovì, il fiume Ellero che è un affluente da sinistra del Tanaro, arrivo da Pian Marchisio che si trova a nord di Prato Nevoso. Mi sono ricordato tutto. una vecchia stazione, adesso saliamo da lì, facciamo quella strada, quella scagnata, e andiamo in una bellissima passeggiata in mezzo a quegli alberi. di Pian Marchisio. Wow, siamo sbucati proprio davanti a un concessionario di moto, diamo un'occhiata va. qua non c'è nessuno. E poi facciamo quel viale alberato, bellissima. Ah, ma qua c'è roba seria. Benelli, dicono che è una delle moto più vendute. Questa è bella. Quasi qua si dò un'occhiata dentro. E così solo per guardare. Mondovì concessionario Benelli. TRK 700 x 70 cavalli. C'è anche i cerchi in lega. C'è la passione con i cerchi in lega. Ma non pensiamoci troppo. Godiamoci questo bel viale alberato di Mondovì. Prima eravamo lì, sulla torre, per rivedere. Rallento perché questo mi fa la muta. Ah ah, che battuta. Tra un po' arriviamo da Marilyn, che ci farà un bel caffè. Proprio lei. Proprio lei. Proprio quella Marilyn. Alla fine di questo spettacolare viale alberato. Marilyn Monroe ci farà il caffè. La professionista, fotografo professionista che non sono io. Allora, va bene. Il pasto della Pantera è quello che... Il pasto felpato, non è quello da... Non mi ricordo se è felpato o della Pantera. Comunque... Quello che praticamente stabilizza la ripresa. Ci sono riuscito? Ma sì, va bene anche così dai. Mi avevo promesso un po' di foglie. Comunque io ho deciso. Mi trasferisco a Mondovì. E' bellissima, veramente bella. Un piccolo Dan si può entrare. Mardo. Qua non dite che... ti porto i posti banali? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti